grazie 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 a tutti per essere qui con noi benvenuti a tutti siamo qui per l'inaugurazione di queste tre mostre come dicevamo inauguriamo queste tre mostre in una che abbiamo voluto definire raggruppando le visioni di calabria e che sono in sostanza l'inaugurazione di una mostra con alcune opere di nick spatari del grande nick spatari una una video installazione di bruno tripodi che qui con noi sul carbonaia di serra san bruno su serra san bruno più in generale una terza mostra che c'è stata concessa dalla data editori sulle ferrovie della calabria da cui veniamo per altro dalla acquistazione veniamo abbiamo scelto questo luogo per inaugurare queste mostre perché questo per noi è un luogo importante è la sede della vecchia sede della rubettino che chiaramente è un luogo carico di significati di storia come come abbiamo come abbiamo provato a sintetizzare in questa in questo breve testo che vedete alle nostre spalle è il luogo che dal quale siamo partiti si può dire in realtà non è proprio il luogo da cui siamo partiti però il luogo dove l'azienda è cresciuta e dove appunto dal quale è partita la nostra la nostra storia e abbiamo come dicevo voluto rendere omaggio a un grande della dell'arte dell'arte calabresa nick spatari noi abbiamo qui con noi ischie mas che la compagna di nick il 50 per cento delle delle della grandezza di nick è costituita 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 anche da lei nick purtroppo per ragioni di salute stasera non ci ha potuto raggiungere nick attivissimo però è anche un giovane di 88 anni quindi in alcuni in alcuni momenti non riesce a spostarsi però abbiamo ripeto ische che è la sua compagna di della vita e del del progetto artistico per cui ci racconterà ci dirà lei due parole così come abbiamo anche bruno che dirà anche lui parole su due parole su questa su questa vino installazione questi tre visio queste tre visioni di calabria hanno in comune con questo luogo con questo con questo luogo dove siamo il fatto di essere esperimenti che vengono fuori da quelle che vengono definite le aree interne di cui si parlava prima con anna rosa macri e con vito tetti sono luoghi che nella geografia contemporanea non vengono percepiti come luoghi centrali come luoghi crocevia eppure da questi luoghi vengono fuori storie vengono fuori racconti che parlano al mondo e che in qualche modo sono accomunati da questo voler far sentire una voce da luoghi percepiti come 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 marginali ma che in realtà non lo sono io vi ringrazio tutti lascio la parola a is che poi a bruno poi faremo un brindisi inaugurale e poi visiteremo le mostre grazie allora riparte sono felicissima di essere qui stasera grazie a florindo i suoi amici e nick ringrazio soprattutto per il pensiero che avete avuto di coinvolgere musaba il suo parto museo laboratorio un sito che abbiamo iniziato nel 69 che era rudere pietre insomma un luogo abbandonato e nick ha detto voglio fare qualcosa per la calabria in calabria non fare solo il pittore sporgere per il mondo ma vorrei realizzare qualcosa di importante in calabria e ci è riuscito pienamente cioè non è ancora finito non finirà mai però è un buon punto e quindi noi siamo una scuola noi lavoriamo moltissimo con i giovani a parte le scuole che vengono a visitare a fare laboratori mosaico eccetera però lavoriamo soprattutto con studenti che vengono a fare stage volontari internazionali e quindi questo rende l'opera più vivo più vero no non solo un'impresa che fa no è diverso e quindi tutte quelle che è stata fatta e stare creata per il luogo come dice il paesaggio soprattutto calabria è tutto il paesaggio come sappiamo e quindi lui fa da architettura paesaggi è tutto uno non sono divisi sono tutti collegati tra loro e quindi sfatari ha avuto questa capacità di vedere lontano lui chiama la sua visione visioni e quindi credo che adesso dopo tanto tempo i calabresi soprattutto cominciano a vedere a capire apprezzare c'è voluto un po di tempo perché voi calabresi siete un po lenti questo lo sappiamo e quindi sono felice come ho detto prima di essere qua stasera perché avete fatto la florina e i suoi amici hanno fatto bellissimo lavoro una piccola mostra ma ha fatto bene allestimento perfetto insomma e anche perché questo luogo io mi ricordo da molti anni fa venivamo qui per fare i lavori per esempio i sogni di giacobbe che è un luogo più importante che dica realizzata nel 90 94 abbiamo fatto con loro un posto grande che dobbiamo rifare che sono finiti e quindi si è lavorato qua era un bell'esperienza poi stampato perfettamente ero un po diciamo dite bravissimi e sono tutt'ora così quindi grazie di nuovo a tutti quanti e vi aspetto a Musala grazie Ischia io approfitto Ischia parlava dell'allestimento della mostra approfitto per ringraziare l'architetto Emilio l'artefice anche il curatore di queste di queste tre mostre dell'installazione grazie grazie tante sono felice di essere qui a Soveria anche perché Soveria a Mannelli con Serra San Bruno c'è in un certo senso un grande legame perché è un paese di boscaioli e carbonai diciamo che da anni che si spostano adesso non più ma per anni diciamo c'è stato sempre questo collegamento perché venivano qua a lavorare nei boschi quindi anche a fare il carbone quindi c'è questo grande legame e io non so perché però appena sono arrivato la prima volta dieci anni fa circa qui a Soveria mi è piaciuto moltissimo penso ci sia appunto si trapella questo questo grande legame e niente praticamente e proporre uno spaccato di vita direi quasi arcaica che è rimasta immutata nel tempo perché questi carbonai lavorano un po' come si lavorava al tempo dei fenici lavorano con le mani nude e fanno un lavoro che adesso è veramente difficile da vedere spero che con gli scatti riesca a trasmettere un po' quello che che io vedo da tanti anni e che mi dà delle emozioni fortissime ogni volta che c'è che ci vado sulle carbonaglie eh a parte l'odore è molto acre che però eh io adesso lo descrivo proprio la Zeit Berlin eh una testata giornalistica tedesca che ha mandato anni fa non so se si sente mi dispiace forse non c'è qualche eh niente io mi auguro che qualcuno di voi riesca a a visitarle queste carbonaglie perché vi assicuro che è un'emozione niente cosa volete che vi dica più che vi ringrazio per la presenza numerosa buona visione e apprezzo grazie 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 a tutti